Avevano allestito un tendone in un maneggio e lavoravano, essiccamento e confezionamento, la marijuana. In un'area dello stesso maneggio, vicino alle piste, frequentato dagli ospiti, c'era la coltivazione della droga. Due italiani di 42 e 47 anni, abitanti a Cinzano, titolari del maneggio sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Castiglione, con l'accuso di detenzione e produzione di marijuana. La perquisizione della cascina e del tendone ha permesso di sequestrare oltre 40 kg di marijuana e un defogliatore utilizzato per dividere le foglie dalle infiorescenze. Grazie a tutti.